Ciao a tutti, sono Antonio Di Capua, sono nato a Napoli il 27 aprile dell'84, sono diplomato al liceo scientifico e ho conseguito la laurea quinquennale in conservazione e restauro dei beni culturali. Ho avuto esperienze nel campo televisivo, nelle fiction, un posto al sole, la squadra, la vita di Enzo Tortora con Righi Tognazzi e l'oro di Scampia con Beppe Fiorello. Ho avuto poi esperienze nel campo cinematografico con regista Maurizio Giordano, in cui ho girato Stanze Aperte e ho realizzato alcuni video sul sociale. Ho seguito corsi di cinema presso gli studi rapa di Napoli con Massimiliano Foa e Gigliola De Feo. La sequenza che vedrete ora è tratto dal film Inside Man con Clay Owen. Il mio nome è Dalton Russell. Fate attenzione a ciò che dico, perché io scelgo le mie parole con cura e non mi ripeto mai. Vi ho detto il mio nome e questo è il chi. Il dove lo possiamo anche descrivere come la cella di una prigione, ma c'è una bella differenza tra il trovarsi chiusi dentro una cella e il trovarsi in prigione. Il cosa è facile, ho realizzato un piano in questi giorni, allo scopo di eseguire la rapina perfetta ad una banca, che è anche il quando. riguardo. Riguardo il perché? Beh, a parte l'ovvia motivazione economica, è estremamente semplice. Perché io lo so fare. Ci resta solo il come da svelare. Ed è qui che il grande bard direbbe che c'è lì tutto. Invece, la clip che vedrete ora è una scena su improvvisazione a tema. Signora, signora, vuoi venire un attimo in portineria? No, guardate, io ce l'ho da fare, me ne devo andare. Un secondo. No, 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 che volete? Leggiate un attimo una cosa. E che cos'è? Io vado di fretta, me ne devo andare. Deve ricevuto delle cose. No, me ne ho ricevuto. Un attimo. No, 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 assolutamente n'engo da fare, me ne devo andare. Scusate, vado di fretta, poi i modi vanno da preparare. Signora, un attimo, un attimo, signora. No, no, ma che volita. Allora, va già a ricevere la verità. Eh, la verità. L'amministratore, il caso si sta lamentando. Oh, l'amministratore è mica per ammorto. L'amministratore, voi non parlate a quattro misi. Come va per mattino? Ma voi sapete chi sono io? La signora è sposta. Ma lo so. Bra, la signora è sposta. Cavarate e mazzetti. Eh, lo sa, c'è malata di mazzetti. Facce le mani per piacere. Com'amma fa, vostra manita a chi lo torna. A chi lo torna? Non lo so gli orari di mio marito, sono gli orari miei e... Uh, ma no, quando è tardi? Managgia, sentite. Managgia. Signora, che c'ha già di ricerlo? È il pignolo, l'amministratore. Che c'ha già di ricerlo? Managgia. Ma forno a porta a peperi, da ve lo voglio. Amministratore, roba vostra, managgia. Facete venire a vostro marito questa sera? Sì, sì, aspettate. Arrivederci. No, vado a piacere. Sì, non bello voglio. No, ciao. I miei contatti sono qui e il saluto di Antonio. No, vado a piacere.